Ciao a tutti ragazzi, io sono Feraz e oggi stiamo in un nuovo video sul nuovo gioco che mi è stato inviato da un fan E si tratta appunto di una sorta di Mugen, ovvero un gioco 2D dove ci saranno appunto degli scontri fra personaggi di vari anime Dato che si possono aggiungere i personaggi che volete ed inoltre personaggi non sono tipo modelli 3D ma sono semplici sprite Niente, un gioco abbastanza semplice ma molto divertente A 200 like farò avere e a tutti quanti il link per il download Infatti ci sarà una beta per tutti quanti che rilascerò venerdì se raggiungiamo i 200 like Quindi spreggete la voce che alla fine ne guadagnate voi Ringrazio Eleti per il gioco Niente, detto questo spero che il video vi piaccia Buona visione Allora, questo è Zare, povero Ferazzo al contrario che è appunto il mio personaggio Niente, proviamola e vediamo com'è Siamo contro Juggie Chi cazzo è? Non so chi sia onestamente, vabbè In persona è giù bello, ok? Ok Iniziamo Spero che tu mi abbia fatto P perché se no ti odio È abbastanza carino Forse il problema è la mancanza di musica Poi probabilmente non lo noterete perché appunto Madonna Perché appunto io metto di sempre la musica in sottofondo Però vabbè Ok Ok Secondo round Quindi praticamente come tutti gli altri giochi che c'è fino al secondo round Perfetto Ok Sì però magari Se mi facesse muovere sarebbe molto meglio Ma la donna quanto è figa Laura Cioè guardate Aspetta Aspetta Prima Ok Quanto è figa Spettacolo Poi pure i capelli sono molto fighi Mi piace Mi piace Quindi mi sta facendo il culo Dio santo No no Mi incazzo Mi incazzo Mi incazzo Mi incazzo No 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 Perché Che fine di merda Niente Vabbè dai Ora mi facciamo il culo tranquillamente Un'altra gamma mia in faccia No Sì Vivare hitbox baccate Fantastico Minchia Che c'è sta roba Madonna Se morivo ora bestemmiavo Perfetto Ce l'ho fatto Ok Perfetto Black gogetta Ok Vediamo come è black gogetta Spero non sia una cagatella Eh dai Figo La voce è figa La voce è figa Forse è meglio Se mi carico Prima Minchia Lo scondo fra la titania Oh Eh Questa più difesa Attenzione Madonna Peccato che non ho trasformazioni Cioè Non penso ad averne Che non posso Teletrasportarmi Se non ho aura E mi sta facendo il culo Ok No 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 Qua non ci siamo capiti Dai Dai Joseph Scusami Ti devo rubare la La frase Ma Devastano Dio Cristo Super Saiyan Rosè 2 Ma che cazzo E OP E OP Non c'è Non si può vincere così E OP Vabbè Scialda Ok No si trasforma E ora vado serio Le ultime parole famose Cioè No è assurdo Non posso nemmeno Cioè Non posso fare niente Cioè Non ho potuto fare niente E niente ragazzoli Per questo video è tutto Spero di cuore Che vi sia piaciuto Se volete avere Il gioco Mi raccomando Arriviamo a 200 like Sotto questo video E vedrete il link Nel prossimo video Che uscirà venerdì Niente Io vi ringrazio Di aver visto il video Fino alla fine Vi consiglio Di andare a visitare La mia pagina facebook Che è appena aperto Mi raccomando Lasciate un mi piace Commentate Condividete il video Come sempre Iscrivetevi al canale Se ancora non l'avete fatto E attivate la campanella Per avere tutte le notifiche Sul canale Io vi ringrazio ancora una volta Di aver visto il video E noi ci vediamo Ad un prossimo video Di una prossima live Un saluto alla ferra Bella Bella